Oggi stiamo facendo un giro nei villaggi, vedete dietro i miei amici saldando i vestiti dai regalini, dai bambini, tutto a posto. Questo tribù qua è un tribù che si chiama Ghiriama, veramente un tribù che loro normalmente vivono a casa fatta con il fango, come vedete questo caso indietro qua, questa casa fatta di alia e fango giù. E questo sarebbe il Ghiriama, in Kenya abbiamo 42 tribù, quindi ogni tribù c'è sua Yusanga, questo sarebbe un modo di vivere. Benvenuti tutti al nostro villaggio Akuna Matata. Peroggi a prendere il quale a trovare le sue pueden, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.